Un incensurato con un piccolo arsenale ed un canile clandestino con animali tenuti in pessime condizioni è stato sorpreso dai carabinieri della compagnia di Casoria che hanno fatto irruzione in casa di un cinquantenne diafragola arrestandolo. L'uomo disoccupato è stato trovato in possesso di un vero e proprio arsenale, una potente pistola semiautomatica calibro 9 completa di 50 colpi risultata poi essere provento di una rapina commessa nella Versano nell'aprile scorso, un fucile ad aria compressa, decine di bossoli vuoti e ogive ed attrezzatura per il confezionamento dei colpi. Per l'uomo è scattata l'accusa di detenzione illegale di armi. Oltre al piccolo arsenale la vera sorpresa dei militari è stata quella di trovare in casa un locale utilizzato come sorta di lager clandestino per detenere animali probabilmente destinati al commercio illegale. Chihuahua senza documenti utili a ricostruire la provenienza, cardellini di specie protetta, coniglie e galline tutti messi in gabbie di fortuna in condizioni igieniche pessime. Oltre agli animali trovati anche numerosi farmaci veterinari, richiesto l'ausilio di guardie zoofile e personale dell'EMPA, ente mediterraneo protezione animali, i carabinieri hanno proceduto al sequestro di animali, gabbie e farmaci. L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso il carcere di poggio reale mentre le armi sequestrate sono state inviate al ris dei carabinieri per i necessari accertamenti balistici.